Daniele.tech, opinioni in open source 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 Abbiamo poi un tweet invece simpaticissimo di uno che ha preso un... Non uno scolapasta, ma quello per centrifugare l'insalata. Ce l'avete presente, no? Quella, viene dire, cofana, cuccuma, zuppiera Con un coperchio dove gira una manopola e l'insalata viene centrifugata, quindi si asciuga, perché l'acqua va praticamente giù. Praticamente ha preso questo e l'ha di fatto diventare un controller per puzzle bobble. Praticamente non ha fatto altro che prendere la pressione dei pulsanti del mouse, quindi con la rotella della centrifuga muove la rotella del mouse stesso e quindi gioca. Scoprendo meglio questo qui ha fatto altri controller strani per puzzle bobble. Uno con dei tubi e un altro con un macchina a caffè, usando diciamo la stessa soluzione alla base. Però sicuramente rende il gioco molto più pratico. Poi abbiamo un tweet di un sviluppatore di videogiochi che spiega invece come si facevano una volta gli effetti grafici, ad esempio quello dell'effetto specchio. Ovvero all'epoca, agli inizi del 3D, come si poteva fare? Praticamente si metteva, ad esempio, se era un riflesso sul pavimento, un pavimento che era semi-trasparente e sotto venivano duplicate gli oggetti e tutto quanto, quindi dando questo effetto di trasparenza. Ovviamente aveva delle limitazioni, eccetera, però all'epoca non è che c'erano molte soluzioni. Poi proseguiamo con la discussione. Vi ho messo un articolo che viene da gamedeveloper.com, titolato proprio La morte di Unity, che spiega un po' tutte le scelte. Salta fuori che il CEO di Unity fu il CEO di Activision anni fa, quando fece tutta una serie di mosse che portarono un po' al tracollo di Activision. E anche che questo CEO ogni anno li vende parte delle sue azioni, ma lo fa da anni, l'ha fatto sempre. E alcuni dicono, no, l'ha venduta una settimana prima dell'annuncio, ma lui lo fa tutti gli anni in quel periodo e parliamo di cifre di 80.000 dollari. Non stiamo parlando di milioni, perché lui ne ha tipo 230.000, ne ha vendute un migliaio. Quindi capiamo che è un po' particolare. Però ecco, questa discussione analizza un po' l'incasso, i soldi, quanto costerebbe lo sviluppatore medio e così via, passare a tutto questo piano. E quindi suggerisce al fatto che è appena iniziato a sviluppare un videogioco in Unity, di abbandonare subito e di passare ad altre tecnologie per evitare il problema. Abbiamo poi un'analisi da Business Insider riguardo Google, che spende 10 miliardi all'anno per assicurarsi che Google sia il motore oramai di riferimento. Cioè, se dico, motore di ricerca, tu pensi Google. Praticamente Google negli anni va a tutta una serie di accordi, ad esempio con Apple e con altri, per diventare predominante ed avere assolutamente il monopolio. Che rientra un po' nella discussione, diciamo, prima anche di Firefox. Poi abbiamo un articolo di un progetto che viene presentato e si chiama SQL Health, che praticamente è un eseguibile che, dato un altro eseguibile, quindi un binario, permette di analizzare l'assembly, però utilizzando la sintassi SQL. Quindi è molto più semplice fare ricerche e analizzare il contenuto perché si utilizza proprio SQL. SQL, quindi leggendo le query, effettivamente è tutto un altro modo di interfacciarsi e semplificare la vita, proprio anche a livello di ricerche, perché ci sono leggi e parametri e tutta un'altra serie di cose. Ed è molto interessante, quindi chi piace questo mondo del reverse engineering, avete questo strumento in più. Abbiamo poi un articolo che invece spiega come degli hacker hanno potuto rendere non funzionanti tutta una serie di apparecchiature nei vari hotel della catena MGM americana. Praticamente loro, tramite... hanno fatto dell'ingegnere sociale a un dipendente, hanno ottenuto dei dati di accesso e quindi poi a quel punto... No, hanno ottenuto dei dati di un indipendente, a quel punto hanno fatto una richiesta all'appdesk, a quel punto hanno potuto avere accesso a tutti i guardi e hanno messo K.O. tutta la loro infrastruttura. Poi è saltato fuori che Android e anche Apple hanno una serie di classi all'interno disponibili ai sviluppatori che servono anche a tracciare l'attività sessuale. Sì, non sto scherzando, non è un easter egg, ci sono proprio le pagine di documentazione e nel mondo di Android rientrano nel pacchetto riguardo la salute. E questo rientra anche un po' nell'analisi che poi arriveremo a parlarne che ha fatto Mozilla della privacy che offrono i vari automobili, sì esatto, perché spesso hanno Android o altre tecnologie per tracciare quello che fanno l'utente. Quindi rientra anche questo perché questo report dice effettivamente no, tracciano quello che fa a livello sessuale. Come fanno se non c'è un'app? Non lo possono fare, però le BI c'è e quindi potrebbero. Ecco, fa molto ridere, assolutamente. Io quindi ve la metto lì per chi vuole approfondire, beh, sapete cosa fare. Poi vi ho messo anche un altro articolo, di un altro che parla contro questa scelta di Unity, perché praticamente Unity con i suoi commerciali praticamente fa tutta una serie di proposte nel tempo a chi utilizza Unity stesso, utilizzare la sua servizio di pubblicità integrata, questo per il mondo mobile, e di come tanti invece sviluppatori utilizzano servizi alternativi che hanno, diciamo, sono migliori, in questo caso si chiama Uplovin, di come offrano a chi passa da Uplovin a Unity dei prezzi molto abbassati, tipo l'80%, che è una mossa che si fa spesso a livello commerciale, però lo scopo è praticamente, piano piano, anche di non permettere l'utilizzo di tecnologie che non siano quelle Unity anche per fare tutto questo, uccidendo praticamente dei competitor brutalmente. Non è per niente bello, onestamente. Abbiamo poi un articolo, no, un articolo, l'elenco dei risultati della competizione annuale dello sviluppo di videogiochi per il Game Boy, non l'Advanced, ma il Game Boy Color o bianco e nero, che è arrivato alla fine e che ha presentato 82 giochi presentati, quindi che è curioso e vuole usare un po' quelli che hanno vinto e tutto il resto, e se li vuole provare e giocare, avete il link come solito. Cambiando completamente argomento, pare, no, pare, è stato fatto un accordo tra Italia e Germania per produrre insieme il prossimo cararmato europeo, perché, beh, parte tutto da una riflessione del fatto che gli Stati Uniti hanno praticamente tre modelli di cararmato. L'Unione Europea ce n'ha tipo 16 diverse, quindi questo crea dei problemi anche nell'unificare tutta la parte militare, perché sono completamente diverse e quindi complica molto la vita. Invece qui viene fatta una specie di accordo che prima era solo tra tedeschi e francesi, in cui si aggiunge anche l'Italia e pare anche altri paesi in tutto questo. Quindi questo dovrebbe rafforzare la produzione, anche se aggiunge anche la Svezia, a quanto vedo, e quindi dovrebbe rafforzare questa produzione e anche creare un mercato più forte da questo punto di vista, che è interessante, per quanto ci parliamo sempre di materiali da guerra. Poi un link che non c'entra niente, praticamente, l'Università Australiana è saltato fuori che aveva tre pezzi nel suo museo rubati dall'Italia. E' addirittura uno dai musei vaticani e quindi è saltato fuori e quindi i carabinieri se ne sono accorti, adesso l'Australia li rispedirà perché è saltato fuori perché sono rubati. Non si sa bene l'origine, perché prima si facevano e venivano comprare da Don Baroli direttamente, non si sa da dove vengono, oppure sono stati comprati all'asta e così via, e quindi verranno ritornati al... verranno ridati all'Italia. Poi c'è qui un articolo che invece fa un po' cagare, che ve lo metto perché lo spunto di base è interessante, praticamente, dei ricercatori hanno preso OpenAI e con altre istanze di OpenAI hanno messo su un'azienda. Quindi ogni istanza era una persona diversa dell'azienda e hanno detto... praticamente loro dicono che sono stati capaci di mettere su un'azienda tech facendo di costruire un software in meno di 5 minuti... no, di 7 minuti per meno di un dollaro a livello di spese. Fatto sta che analizzandolo è una cagata, perché praticamente gli hanno fatto sviluppare un videogioco di strategia giapponese, che adesso non mi ricordo, ma non è, i Tsudoku, e quindi dici, non è un vero software che poi sviluppano le aziende tech, ma anche perché poi l'azienda tech non è che sviluppa solo il software, lo mantiene nel tempo, risponde all'assistenza, correggge bug e così via, quindi non è soltanto lo sviluppo, quindi è una ricerca che sa un po' di meh, e quindi io ve la metto perché è uno spunto di riflessione, praticamente hanno fatto fare tipo un ruolo CEO che risponde a CTO, che risponde e così via, proprio nella scelta delle varie cose, e l'intervento umano c'è stato, perché non è che ha dato il via a tutto, no, loro miglioravano i prompt che davano l'altro, quindi non è così semplice come vogliono farlo sembrare in questa ricerca. Mi ho messo però il link a Reddit perché ci sono i vari commenti che lo spiegano nel dettaglio tutte queste cosette. Poi, io non sono vegano, vi ho voluto mettere un link che praticamente pare che, Meet ha fatto uno studio che i prodotti che ci hanno scritto vegan vendono di meno, anche se lo stesso prodotto che sta scritto vegan vende di più, quindi c'è proprio un fuggire al concetto di vegan, e quindi dicono che questo influisce anche tutta la polemica che viene fatta a livello social, tam tam, contro il mangiare vegano, e quindi influisce in tutto questo. Invece, secondo me, è perché la gente non ne può più, tanto sa quello che si mangia, e quindi, se vuole vegano, se lo compra uguale, non è che devi rompere le scatole, ecco. Abbiamo poi, Google ha corretto una vulnerabilità grave, e di conseguenza l'hanno fatto anche tutta un'altra serie di applicativi, da Firefox e a molti altri, perché è saltato fuori un bug molto pesante nella libreria che si occupa del formato WebP, che è stato scritto poi da Google, e quindi a cascata tutti i progetti che lo utilizzano, hanno dovuto rilasciare aggiornamenti, perché praticamente si poteva prendere accesso al computer se il file veniva fatto in un certo modo. E quindi era bello grave, se pensiamo che Apple ha aggiornato tutti i telefoni dal modello 6 in su, non dal modello 15, che è l'ultimo, parliamo del modello 6. Quindi ha aggiornato molti telefoni. Poi abbiamo un altro articolo riguardo ai telegiornati artificiali, che spiegano che sono usciti a generare delle musica con la qualità molto alta, e anche testi. Tutto questo grazie a Stable Stability AI, che è l'azienda che ha ritiffuso Stable Diffusion, ha presentato questa nuova modello di telegiornati artificiali, che non è stato presentato, ah, Stable Audio si chiama, che è stato allenato con Audio Sparks, che è un music provider di tipo stock, che sono tutti dati liberi a livello di musica e quant'altro, è stato allenato su oltre 19.000 e passa ore di audio per realizzare questo modello. Poi, quest'articolo, invece, è la Divertate di Ars Tecnici, che dice come Google sta facendo altri licenziamenti, però stavolta lo fa delle risorse umane, perché il ragionamento è molto semplice. Allora, io ho meno dipendenti perché ho licenziato, non assumo più o assumo molto di meno, e quindi mi servono meno risorse umane, che forse è la cosa più sensata a livello di licenziamenti che potevano fare adesso, perché, da tutte quelle che hanno fatto, abbiamo poi una infografica di Gamealytic che riguarda Steam, ovvero è un'analisi del mercato a livello di numeri e vendite di Steam che è basato su dati estrapolati in modo proprietario, quindi non si sa dove vengono. Ovviamente dicono che ci sono oltre 71.000 giochi su Steam, però il 50% di tutti i giochi su Steam fa meno di 1.000 dollari in un anno, e quindi dicono che negli scorsi tre anni oltre 41.000 giochi sono stati rilasciati su Steam, quindi non sono pochi, quindi sono numeri molto affascinanti, e poi c'è anche un'analisi del genere che vendono di più, ovvero manageriali, CD Builder, quelli dedicati al survival, e a tutta un'altra serie di cose che vendono di più. Poi dal 17 al 19 novembre a Bari ci sarà la IT Wiki Conference, probabilmente ci sarò anche io, forse presenterò il progetto che ho fatto proprio per Wiki Media Italia dei musei, e a Bari, io ve l'ho detto, intanto segnatevelo. Poi questo invece riguarda il mondo dei fumetti che però influisce sugli argomenti di questo podcast, ovvero Fables, non so quanti voi lo conoscono, è un fumetto americano che è molto bello, a me piace quello, l'è sì in buon formato digitale, che praticamente parte dal presupposto che il mondo delle fiabe esiste e che loro devono scappare dal loro mondo perché c'è sta uno che conquista tutto. E quindi vengono nel nostro mondo reale, si prendono un quartiere a New York e lo nascondono con la magia e loro sono quasi immortali e hanno un po' tutte le loro storie su quelle delle fiabe e hanno anche poteri presi dalle fiabe, tipo c'è il lupo dei tre porcellini che fa il detective, c'è sta Biacaneve che invece è tipo una che comanda e così via. È molto interessante. E l'autore, che oramai ha quasi 70 anni, ha deciso di pubblicare, di rendere di pubblico dominio i suoi diritti d'autore su tutta l'opera perché non è d'accordo con le pratiche della DC Comics che nel mentre sono cambiate però questo non significa che potranno ok, stapperanno tutti questi fumetti adesso in pubblico dominio quindi non ci dobbiamo preoccupare. No, perché lui ha ceduto i diritti del testi della sceneggiatura, non della versione disegnata che è tutta un'altra storia. E quindi non potranno essere ristampati i fumetti ma potranno essere disegnati a questo punto e l'universo potrà essere espanso anche da altri. Questo è molto interessante perché al primo che lo fa lui dice spero che anche altri lo facciano anche perché lui dice adesso non ho più la forza anche perché sono quasi a 70 anni di aprire una causa legale per il comportamento scorretto della DC, bla 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 quindi ho detto no, li frego direttamente così. Abbiamo poi un articolo che viene da uno dei contributor quello che fa tra l'altro i report settimanali dei come va lo sviluppo di KDE che spiega un po' i perché stanno correggendo un sacco di bug e si saltano fuori del supporto a Wildland dentro Plasma. Praticamente Wildland dice è un insieme di protocolli però ancora non è completo a livello di feature rispetto a Xorg e quindi esiste una libreria che serve a semplificare la vita perché praticamente tutti quelli che vogliono farci un window manager quindi kwin o quello di gnome e così via non possono fare tutto quello ad esempio fa l'esempio del blocco schermo o quant'altro e quindi si devono implementare il loro protocollo. Allora esiste una libreria di mezzo che i window compositor si possono no, window manager possono utilizzare per implementare tutto questo e semplifica la vita però dice noi KD abbiamo cominciato prima che esistesse e quindi noi facciamo anche molto più cose di quella lì e quindi non abbiamo deciso di utilizzarla però un domani può anche darsi e quindi dicono noi passiamo in tempo a correggere questi bug perché Wildland ancora non è completo anche se ci sono delle aziende che stanno investendo tra cui menziona proprio Valve e questo rientra un po' nella discussione di come Fedora ha deciso di uccidere cioè non rilascerà più Plasma, Xorg ma direttamente Plasma, Wildland e ovviamente dice che Xorg non viene più sviluppato oramai in modalità manutenzione quindi non vengono corretti bug o quant'altro noi sappiamo che nel mondo tech se non c'è sviluppo porta alla morte letteralmente quindi non conviene più utilizzarlo poi abbiamo un articolo che viene da Dropbox che loro spiegano come loro sono riusciti a diminuire il peso dei loro javascript su tutti i loro sito del 33% evidente hanno fatto che solo certi file vengono caricati solo in certe pagine e hanno fatto in modo tale che quel codice c'è solo una versione o non più di una in contemporanea e poi hanno fatto che hanno verificato facendo un'integrazione apposita nel loro builder che è Rollup che delle varie librerie che utilizzano non c'è il codice cioè ci sta solo quello che utilizzano non tutta quanta la libreria framework che sia ottenendo diciamo tutte queste migliorie a livello di peso quindi ne influisce anche i tempi di esecuzione della pagina poi abbiamo un sito che si chiama Subdomain Center che sfruttando tutta una serie di tecnologie tra cui anche OpenAI praticamente ha dato un dominio e ti dice tutti i sottodomini che esistono ora l'ho provato con i miei e trova anche sottodomini che oramai non esistono più quindi probabilmente hanno anche fatto un po' di scraping ossia appoggia le tecnologie che fecero lo scraping di questi sottodomini in un modo o nell'altro abbiamo un articolo di The Verge invece che riguarda le biciclette sì praticamente hanno presentato questo materiale che si chiama Nitinol sviluppato dalla NASA che viene utilizzato per sostituire il concetto classico di gomma con la camera d'aria per le biciclette praticamente è come se fosse una grande molla circondata da questo materiale di plastica che può attutire tutte le botte che siano però il vantaggio di questo materiale è che lui mantiene la memoria la posizione quindi non si deforma e che è molto più resistente del titanio ed è molto più leggero e quindi questo dovrebbe cambiare tutto quanto il set mentale di avere le gomme delle biciclette perché oggi sarà più probabilmente è bucata la gomma da questo punto di vista e che non è male però hanno aperto quindi un kickstarter che ha già raggiunto la cifra e quindi il bello è che questo materiale è stato scoperto nel 59 e solo adesso si trova un utilizzo di questo tipo loro dicono che potrebbe avere un costo di 10 dollari una camera d'aria però da vedere quanto sarà successo un domani quando verranno messe in produzione dall'anno prossimo e ho voluto mettere poi il link del session compositing window manager visto che ne parliamo poco fa di Valve che si chiama Gamescop che viene utilizzato sullo Steam Deck proprio per la parte proprio di non tanto desktop mode ma il gaming mode per lanciare i videogiochi che praticamente è un altro che è un grande browser con tutta la si scoggetto però di gestione delle finestre e quant'altro che si basa su Wayland perché hanno aggiunto il supporto a Reshade non so quali ve lo conoscono oramai per tutti i videogiochi vengono realizzati degli shaders che non sono altro dei filtri che cambiano i colori del videogioco quindi si possono prendere i videogiochi e dargli proprio un altro tono completamente ora questo sullo Steam Deck o su Linux richiedeva di intervenire lato Wine per iniettare durante l'esecuzione questi filtri quindi non era per niente semplice e pratico e oltre performante invece questo viene iniettato proprio a livello di Windows Manager e quindi non ha tutti questi problemi abbiamo poi un articolo di Phronix che parla di Servo che non so quali di voi conoscono è un engine per browser sviluppato in Rust che nacque da Mozilla e che adesso è sotto la Linux Foundation Europe che adesso ha ripreso lo sviluppo ne avevamo già parlato e ci sono un po' di aggiornamenti ad esempio che adesso internamente non usa più OpenSSL ma l'implementazione di Rust ha il supporto WebGPU hanno migliorato anche il supporto ad ARM per 64 bit quindi sta diventando sempre un po' più carino anche se non è ancora pronto per niente abbiamo poi un articolo che riguarda invece la qualità del lavoro per i dipendenti della Corsair in America praticamente dicono che loro fanno pochissimi soldi in confronto ai CEO perché loro dicono noi dobbiamo fare 22 controller all'ora per la Playstation 5 che la Corsair se li vende a 100 dollari l'uno noi no noi ci facciamo pochi soldi all'ora in confronto perché se li piglia tutta la CEO la Corsair non so ma ti conoscono un marchio molto per il gaming che fa tutta roba ad altre prestazioni e se fa pagare quindi è tutta una riflessione un po' dei lavoratori di questa azienda specialmente del mondo americano che adesso provano a farsi proprio i sindacati di queste unioni che vengono un po' osteggiati brutalmente poi abbiamo un articolo che riguarda il mondo salutistico salutare medicinale Teleton la fondazione è la prima charity quindi la prima fondazione proprio che sarà responsabile della produzione e distribuzione di un farmaco che era già assistente ma che l'azienda stessa ha voluto dismettere perché lo ritiene non più profittevole no e il problema di queste fondazioni è che loro lavorano tanto per creare cure a malattie che all'azienda non conviengono in questo caso è l'attore medicinale che l'azienda non lo ritiene profittevole e Teleton invece vuole farlo è una malattia particolare è la terapia genica per l'immunodeficenza adacid quindi per chi vuole approfondire ci sono tutti i link e le informazioni però è interessante perché è la prima volta che intervene da questo punto di vista e questo dovrebbe stimolare un po' l'azienda anche che non vogliono più investire tutto questo che loro i soldi ce li hanno non li faranno non certo non li faranno produrranno queste medicine per farci i soldi poi abbiamo tutta una lunga riflessione sul lama 2 questo modello di meta che adesso sta spopolando che è un language model molto potente e poi la versione 2 che è uscita appena dopo la lama di cui esiste anche la versione code lama che è un fork di lama 2 sempre prodotto da facebook che fa tutte le riflessioni su quanto non sia per niente open source perché loro facebook cioè meta ha detto che è open source ma in realtà solo perché l'hanno rilasciato però ha dei limiti a livello di licenza quindi se viene confrontata a licenza non può essere ritenuta a pen source che impongono dei limiti tipo non può essere utilizzato in situazioni da oltre 700 milioni di utenti quindi questo modo per dire AWS, Google Microsoft, Pia la valenza a coccia non lo potete usare negli altri casi sì però è contrario al oggetto di pen source che non ha questi limiti poi qui vi è voluto mettere un altro articolo di Unity di un altro produttore di videogiochi in questo caso di uno famoso che è Cult of the Lamb che è stato deciso che loro dal 1 gennaio lo tolgono da Steam anche perché questo costo a installazioni patrioticamente sarà di 20 centesimi a installazione non so pochini quando ce ne hai tanti ecco ah al tempo stesso abbiamo un annuncio del Godot & Giant Foundation che ha introdotto il Godot e il Fondel of Event Fund praticamente potranno essere dedicati dei soldi per sviluppare cose specifiche quindi chiunque può partecipare meglio ecco poi c'è tutta questa discussione che è molto legalese viene da The Chronicle of Higher Education che praticamente parte dal concetto che questo avvocato venne chiamato in causa perché c'era un pub che si chiamava Crusoe qualcosa e questo per quello che aveva fondato il pub aveva avuto prima una disputa legale con un ex socio che impediva praticamente di aprire un altro pub e dargli un tocco caraibico allora questo avvocato questo non è avvocato questo è un professionista universitario che è molto esperto della letteratura britannica quindi che riguarda Robinson Crusoe che mi ricordo fu uno dei libri primi d'avventura che lessi e praticamente è stato chiamato in causa per spiegare al giudice e dimostrare che Robinson Crusoe non è un'opera sudamericana ovvero latina ma un'opera britannica a dimostrare un po' l'ignoranza e tutto questo e quindi lui è stato ha dovuto intervenire è dovuto intervenire per spiegare il fatto che non fosse un'opera caraibica anche se ambientata malamente nelle caraibi perché non c'è un posto specifico è tutto fittizio se non nei caraibi quanto è principalmente più un'opera britannica quindi questa è un po' una riflessione che a me piaceva e quello ci ha voluto mettere di come noi possiamo capire se un romanzo è britannico o americano latino ecco ce l'ho fatto o non può essere entrambi ce lo definiamo in base a chi l'ha scritto nel paese in cui è stato scritto o nel posto di ambientazione ad esempio o in base al personaggio non è una cosa così netta a livello legale in ogni caso è stato definito che l'opera era britannica anche se l'avvocato che della parte offesa tentava in tutti i modi di dirgli di no che non era vero ecco poi abbiamo un articolo interessante di come l'interizzazione artificiale potrebbe costituire i vari CEO siccome invece dicono le aziende stanno costituendo i dipendenti invece dei CEO che poi fanno le scelte sbagliate per cui poi loro sono in un modo o nell'altro costretti a licenziare tanti dipendenti dicono perché non possiamo utilizzare l'interizzazione artificiale perché funzionerebbe molto meglio invece dei CEO dei dipendenti dopo tutto quindi è una riflessione sulla qualità di quello che fanno i classici manager di un'azienda detto questo siamo arrivati alla fine della puntata io vi ricordo il gruppo Telegram del podcast basta che mi cercate come mettiamo avanti vi butto dentro e il link al calendario di eventi open source è il fatto che il mese prossimo ci sarà il Linux Day che in coda a tutte le puntate del podcast trovate il link che contiene tutti i link di cui io parlo ogni singola puntata se volete approfondire quindi vi invito a metterlo da preferire di aprirlo ogni volta che c'è qualcosa che vi potrebbe interessare e detto questo ci vediamo alla settimana prossima ciao ciao